Il governo verso una nuova stretta. Mentre il Covid torna a bussare prepotentemente alle porte del bel paese, il Premier Conte è pronto a promulgare nuove misure per arginare la seconda ondata di contagi. Un nuovo DPCM che sarà presentato domani alle Camere dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Al contempo lo stato di emergenza sarà prorogato fino al 31 gennaio 2021. Ecco cosa conterrà il nuovo decreto. Innanzitutto il limite di 200 persone per feste private, matrimoni, battesimi, incontri conviviali, rimane il divieto di ballo e l'obbligo di mascherina quando si sta al chiuso e non è possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro. Una regola questa che si dovrà applicare anche nei cinema e nei teatri. Vi è anche la possibilità che nel testo sarà imposto l'orario di chiusura di bar e ristoranti alle 23 o massimo a mezzanotte, anche se sarebbe ancora in corso la trattativa con governatori e associazioni di categoria per una soluzione che non vada a incidere troppo su un settore già in crisi. Regole più rigide anche sulla mascherina, molto probabilmente infatti vi sarà l'obbligo di coprire naso e bocca anche per strada. Una misura questa ritenuta necessaria per impedire contatti troppo stretti all'uscita delle scuole ma anche fuori dai locali pubblici dove le persone si accalcano e spesso dimenticano di mantenere la distanza. Il divieto di assembramento rimane in vigore così come la volontà di intensificare i controlli utilizzando la polizia locale ma anche i soldati impegnati nell'operazione strade sicure. Per quanto riguarda le regioni è probabile che si torni alla situazione d'inizio pandemia, ovvero quella in cui i governatori avevano solo la possibilità di introdurre misure più restrittive di quelle imposte da Roma. Non è più così dal 18 maggio quando i governatori ricevettero di nuovo pieni poteri di intervento sulla base della curva epidemiologica. Adesso però la tentazione dell'esecutivo è quella di tornare indietro allineando le regioni sul medesimo rigido modus operandi. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, accende subito la polemica. Non sono d'accordo con Conte, ha detto il governatore. Bisogna permettere alle regioni di modulare gli interventi e il livello delle restrizioni. Mi sembra una stupidaggine, ha aggiunto Marsilio, utilizzare la mascherina all'aperto anche laddove non vi sono assembramenti.